c'è ragazzoli da Sampo83 eccoci qua su Trial Fus...fusion...fusion...fusion...voglio fare una partita online visto che appena installato ho fatto subito online per vedere se funzionava se c'era gente ovviamente adesso voglio farmi una sfida online...mo vediamo...uh l'ha trovata l'ha trovata via 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 un giocatore abbandonato dai manca uno sicuramente quello che abbandonato era un americano che doveva andare a prendere le patatine al mcdonald e dai eh la 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 Grazie a tutti. 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 No, non c'ho... Usiamo il Roach, dai. Eh, qua la vedo male, eh. Ecco, ultimamente usavo sempre questa, e quindi... Ma che succede? Ma dai... Ah, ma questa qui l'avevo fatta, è vero? Mi pare... Si, l'avevo fatta. Non con sta moto, ma... Mi pareva di averla fatta, che caspiterina sta succedendo. Adesso devo saltare qua, aiuto! Non devo distrarmi, non devo distrarmi, non vedevo un tubo. Pese in avanti, saltiamo. Pese in avanti. Ok. Ah, non è finito? Adesso... Adesso è finito. Adesso è finito. Ho vinto. Quello che ha il casco... Eh, questo è male, eh. Ha sbagliato moto. Questo ha sbagliato moto. Ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Questo è quella bici. 600 XP. Guardate, però, è sempre un soffio, eh. La tostata del cielo, no, ti prego. Ci prendiamo sempre il nostro quad, porta fortuna. Come sempre, sono l'unico che l'ho preso. Pese in avanti. Caspiterina, caspiterina. Ma secondo me, sto quad qua è troppo facile, cioè... Eh, che cavolo. No, 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 non troppo, non troppo, non troppo, non troppo, non troppo, non troppo. Mannaggia. Ok, perfetto, acceleriamo. Andiamo su di prepotenza. E ragazzi, vinciamo anche questa. Cioè... Io non so, non so se sono diventato un mostro. Oh, questi qua è la prima volta che esce. Secondo me hanno fatto come me. Appena hanno preso il gioco, hanno... Hanno, come si dice... Eh... Eh... Sì, hanno provato subito i multiplayer. Io ho provato giusto per vedere se funzionava e se c'era gente. Bica per... Infatti non ho mai finito una gara. Era sempre uno schianto elettorato che non sapevo giocare. Adesso ho fatto queste quattro mappe qua. Primo, primo! Guardate chi è nel podio. 104 valutazione, ragazzi. Non c'è storia, eh. Gli altri guardano fuori, guardate qua. Vince il giocatore, Sampo D'A3. Ragazzi, ho vinto io. Bene, allora io direi che con questi fuochi d'artificio di vittoria il video finisce qua. E come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace. E... Ciao, agliù!